Forse si è sempre in difficoltà o forse comunque ormai da tanti anni si vive complessivamente una situazione di difficoltà. Poi c'è qualcuno che si trova anche a lavorare in aziende che vivono in modo speciale dei momenti di passaggio, momenti critici nel senso preciso proprio del termine, sono dei crinali. Diciamo che se dal settembre del 2008 in poi il momento è critico per tutti, c'è un settore come quello siderurgico in cui io opero, in cui parlare di momento critico è eufemistico. Si sfiora il momento drammatico ma non vale solo per Lucchini, vale per altre ragioni, per tutta una serie di aziende anche del Florida Nord, per altre ragioni ancora e è la storia più recente per il gruppo ILVA e il gruppo RIVA in generale. Quindi la situazione è abbastanza pesante e drammatica in generale. Per cui ecco ci sono situazioni veramente complicate per cui la direzione delle risorse umane in questo momento, in queste aziende particolarmente coinvolte, in una crisi di mercato ma anche in una crisi che va al di là del semplice momento storico e di mercato perché secondo me impatta più in un momento politico e in una situazione particolare della scelta anche politico-economica italiana. Cioè in Italia si vuole mantenere un tipo di manifattura, la manifattura pesante che dà occupazione a tante persone ma per altri versi è molto scomoda. Se non c'è la manifattura pesante perde proprio peso il paese, poi probabilmente non c'è neanche manifattura leggera, non so, c'è un legame. Ovviamente sì, dobbiamo entrare nell'ordine dei dei che senza la manifattura pesante la manifattura più leggera diventa completamente dipendente dall'estero. Io credo che chi è più intelligente di noi, più preparato di noi e sta nelle sedi dove si comanda la politica italiana queste cose le sappia come le sappiamo noi. si capisce un po' meno perché poi questa conoscenza e consapevolezza non si traduca in un'azione conseguente. Sì, non si capisce neanche tanto, per esempio per dirti un'altra di questi giorni perché si debba uscire dal mondo delle telecomunicazioni, non c'è una ragione se non un asservimento a un certo tipo di assetto economico, finanziario e globalizzato, però poi anche in quel mondo lì si possono fare, un paese può trovare il suo spazio. Adesso però scendiamo ancora un po' e chiediamoci se non lo fa il paese dovrebbe farlo un imprenditore e se non lo fa un imprenditore finisce che deve farlo il direttore del personale. Beh, sì. Lo esagevo un po', no? No, no, faccio un passo indietro perché ritengo interessante fare un escursus della direzione prima del personale e poi risorse umane negli ultimi diciamo dieci anni, brevemente, no? Perché siamo passati dalla direzione del personale dura e pura di ispirazione anni 70-80 in cui eravamo all'ufficio partace e all'ufficio licenziamenti, attraversando un momento in cui si è cambiato la definizione stessa della funzione, direzione del personale e poi direzione risorse umane, nei momenti più floridi, quindi fino al 2006-2007 addirittura si erano sperimentate nuove etimologie tipo direzione, servizio, sviluppo, fattore umano strategico, robe un po', no? Anche giusto per innovare e per darsi un tono un po' diverso. E io mi sono reso conto che intorno al 2005-2006 la direzione risorse umane era diventata un qualcosa che se lo dovessi mettere su un organigramma addirittura l'avrei messa tratteggiata, no? Perché non era più né una funzione di staff né una funzione di line, cosa che non è ormai da tanti anni, ma era diventata quasi un service, no? Ho avuto a che fare con dei colleghi di gruppi importanti che si sentivano quasi consulenti in casa loro, addirittura avevano un timesheet in cui segnavano le ore che avevano prestato per quella funzione o per l'altra funzione. Sì, non è un'eccezione. Ora spero di non dare qualche idea a qualche imprenditore presente in sala perché secondo me quella non è direzione risorse umane, quella è una funzione consulenziale ma che manca di quello che è il DNA specifico di una direzione risorse umane che è la conoscenza profonda e approfondita dei processi e delle persone che uno è chiamato a gestire sotto certi aspetti. Tant'è che eravamo diventati compensation e benefit manager piuttosto che talent tutores piuttosto che career developers, no? Le share manager è diventata una cosa un po' così, più eterea che non radicata in quella che era la conoscenza reale dell'azienda. Ecco, se posso trovare una chiave di lettura positiva, perché poi va sempre trovata in tutte le cose una chiave di lettura positiva, dico che la crisi del 2008 a questo è servita, facci tornare con i piedi per terra, perché siamo stati costretti, parlo in generale ma io in particolare, a parlare di nuovo con le persone, quindi a riacquisire la conoscenza di quelle persone, di quei processi, di quei flussi informativi all'interno degli uffici che stavamo, secondo me molto pericolosamente perdendo. Quelle stesse risorse che dovevamo beneficiare, developpare, tutto quello che ci viene dall'etimologia anglosassone, però non sapevamo più chi fossero e come la pensassero, perché la direzione di risorse umane era diventata molto meno blu, molto più vicina al board, sì più strategica ma molto meno riconosciuta all'interno dell'azienda stessa. I colleghi della produzione, piuttosto che dell'IT, piuttosto che dell'amministrazione, faticavano un po' a riconoscerci ancora come colleghi, sembrava un po', ripeto, un qualcosa di esogeno piuttosto che indogeno. Ecco, e allora invece nella realtà che hai detto veramente dura, che ti trovi a affrontare tu, si può dire che è un'azienda che in questo momento è anche un'amministrazione controllata. Assolutamente sì, non è un mistero per nessuno. Però dirlo significa, dal punto di vista proprio del, sia della responsabilità personale che ti senti e che accetti di portare e dal punto di vista proprio del lavoro quotidiano, che cosa ti trovi a fare tu in questa situazione? Al di là della quotidiana relazione con le organizzazioni sindacali, e questa la metto un attimo da parte, un collega stamani parlava di creatività. Io credo che in questo momento nella mia funzione debbo fare massimo ricorso, cioè se anche non l'avessi me la dovrei inventare la creatività, veramente, perché in una situazione di amministrazione controllata in cui naturalmente scusate, i talenti, le persone migliori, i giovani, quelli che ormai hanno fatto il loro percorso di carriera che ha permesso loro di essere preparati tecnicamente e managerialmente tendono a scappare. Non vorrei fare l'esempio ovvio della Concordia perché purtroppo è affondata troppo vicino a Piombino, però insomma quando la nave va giù si tende tutti a scappare. Quindi in una situazione del genere brutta, drammatica, la funzione delle risorse umane deve cercare di non far scappare le persone migliori perché nel caso specifico della Lucchini il commissario straordinario ha il compito di mettere nella condizione l'azienda di essere appetibile sul mercato perché un'amministrazione straordinaria ha due, anzi tre, ma il terzo non lo cito, possibili sviluppi. Il primo può essere ristrutturata e quindi riavviata lungo un percorso di risanamento che nella situazione in cui il commissario ha trovato la Lucchini questo è particolarmente difficile da attuare. L'altro percorso è quello di rimetterla nella situazione di essere appetibile sul mercato per investitori esterni. Ecco, in una situazione di questo genere e noi stiamo andando verso questa seconda soluzione, è chiaro che oltre al mercato, oltre agli impianti ben manutenuti e ben portati avanti dalle persone, quello che rende appetibile in un'azienda è il valore delle risorse umane. Cioè, un imprenditore per quanto ben facilitato anche da tutta una serie di strumenti che il governo può mettere a disposizione e ben predisposto a prendere un'azienda pesante siderurgica con tutte le problematiche che vi dicevo, se si rende conto che i talenti, le persone migliori, chi veramente fa fare il cambio di marcia su certe cose, soprattutto da un punto di vista tecnico operativo, è venuto meno, è chiaro che è molto meno incentivata ad entrare. Quindi da una parte non dobbiamo far scappare le persone, dall'altra le leve per trattenerle sono sicuramente non quelle economiche, sicuramente non quelle delle promesse di carriera, ma semplicemente, come dire, rifarveni fuori un minimo di senso di appartenenza e anche, non mi vergogno a dirlo, un minimo di senso di riconoscenza per quello che l'azienda ti ha dato fino ad oggi. E lì si mette in gioco personalmente il direttore delle persone. E lì ci si mette la faccia. Ecco, poi questo perché ci serve tantissime cose di cui parlare, ma proprio cosa vuol dire anche questo senso di... cosa senti tu? Non so... perché c'è bisogno di coraggio, di... si è... oltretutto penso che non sia un influente il fatto che tu... la cosa più grave che gestisci in questo momento ce l'hai Piombino, no? Magari sei ugualmente grave altrove, ma sei di lì, grossomodo, vivi lì, ti vedono anche per strada lì, non sei uno, il manager che magari può fare il lavoro sporco perché poi va via, no? Sei una persona di lì, quindi puoi capire magari anche più di altri, anche il dramma umano di altri. Come si vive? Chiaro che lì non entra in gioco solo la professionalità e... come dire, il dover rispettare certi input aziendali, quello che ci impone comunque il ruolo, ma entra in gioco anche molto l'emotività, entra in gioco molto... la minore o maggiore empatia che possono instaurarsi in questi momenti. Io sono di Piombino, ho lavorato tanto fuori, però poi alla fine sono tornato lì e i miei figli vanno a scuola a Piombino, quindi probabilmente andranno a scuola con l'operaio che lavora in cocheria piuttosto che in alto forno. Di questo ne sono consapevole e dobbiamo cercare di essere un po' da una parte asettici, dall'altra avere la sensibilità e l'umanità di dover gestire certe cose nel rispetto degli input, ma anche nel rispetto delle persone. È chiaro che quando sei in spiaggia o quando sei a fare il giro nel centro storico ti possono fermare e chiederti delle cose. Lì sta un po' alla sensibilità personale, sta anche al modo in cui certe cose ti vengono chieste. A tante persone mi fermo e rispondo, ad altre persone, a seconda di come si avvicinano, tendo ad allontanarmi perché poi la reazione delle persone mica la conosci fino a fondo. Però ecco, c'è di buono che essendo di Piombino, gestendo una situazione di questo tipo, le persone tendano a credere a quello che dico. E se sei credibile. Sì, perché poi alla fine loro sanno che se dico delle cose non vere o interpretarmi in modo diverso, voglio dire, non scappo, lì sono e lì mi ritrovano. Quindi nel bene o nel male, in modo diretto, in modo un po' più condito, quello che dico di solito viene percepito come credibile. Senti, c'è proprio pochissimo tempo, però una battuta, se si può dire, forse anzi è meglio dirle in una battuta, certe cose sono troppo grossi come temi, ma ci sono degli interlocutori precisi, no? In questo lavoro qui. Cioè ci dovrebbe essere la controparte sindacale, le autorità locali, il quadro normativo, lo Stato. Adesso, se proprio in due battute dici tu quello che puoi dire qui di come ti trovi rispetto a queste... perché c'è poi la solitudine anche di non avere gli interlocutori magari. No, no, questo rischio non si corre, nel senso che per la funzione che facciamo noi, in certi momenti storici particolarmente, interlocutori ce ne sono fin troppe, nel senso che ti cercano comunque, no? Poi si tratta di un piccolo centro, con il sindaco ho giocato al calcio fino a quando avevamo 32 anni insieme, quindi le informazioni le cerca, le cerca in modo intelligente perché sa che fino a un certo punto possa arrivare, oltre no. Con il sindacato devo dire che negli anni buoni e floridi abbiamo anche discusso e discusso pesantemente, poi il sindacato che se ne dica nella rossa toscana e nella rossa piombino ha assunto un grado di motorità secondo me di rilevo, nel senso che sono una controparte sicuramente, fanno il loro... anzi, rappresentano come loro dicono i loro azionisti in modo trasparente, anche duro, però in una fase come questa in cui c'è bisogno spesso e volentieri di metterci a tavolo e discutere di cose abbastanza pesanti e drammatiche, ecco, perlomeno hanno abbandonato quella logica dogmatica di punti fermi, di principi intangibili... Non più del non fare accordi. Sì, sì, no, no, tanto è vero che una parte in particolare del sindacato, che non cito perché poi non c'è nessuno che mi potrebbe rispondere diversamente, sta decisamente prendendo una strada diversa rispetto a certi input nazionali sempre molto duri e precisi, quindi stanno al tavolo, discutono e cercano di trovare le soluzioni per quanto indigeste, insomma, voglio dire, la logica è abbiamo di fronte degli scenari, cerchiamo di percorrere quello meno drammatico e dannoso per il territorio e per le persone e andiamo in quella strada, insomma. Gli interlocutori non mancano. Va bene, no, sono temi così grossi che ci fermiamo perché poi non abbiamo modo di affrontarli più. Dimmi solo una cosa, in che ruolo giocavi tu e in che ruolo giocava il sindaco? Io ero mezz'alla destra e il sindaco ero mezz'alla sinistra. Grazie. 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 Grazie.